E benvenuti ragazzi a questa nuova serie di video su Tomb Raider 2 Starring Lara Croft Dunque, ho deciso di iniziare questa nuova serie di video Della collana, diciamo, chiamiamola così Death to basics E partiamo con Tomb Raider 2 Allora, dicevamo, partiamo con Tomb Raider 2 Avrò un po' di problemi con le registrazioni dei video e dell'audio Sicuramente perché, essendo un gioco molto vecchiotto Molti video vengono completamente tagliati Spero di potervi mostrare tutte le animazioni Ed ho cercato di registrare tutto il video introduttivo Quello che, per chi se lo ricorda, era con la parte, col dragone che mangia il tizio Che lottava sulla muraglia cinese Spero di potervi mostrare tutto il popolo Ma, niente, non è venuto fuori Spergo tutto nero Un attimino, che sistemiamo l'audio Che è un po' Ah, non è nemmeno altissimo Pure da parecchio fastidio Allora, vediamo se mi ricordo bene Sì, alta si salta, ci tirerà, ci si arrampica E si equipano le pistole con lo spazio No Quindi Ecco qua Volevo, appunto, ricominciare a fare Una serie di video, ora che siamo in estate Che sono un pochino più libera Appunto su questi giochi Vecchiotti, chiamavoli così Che però, insomma, hanno fatto un po' la storia dei videogiochi E in particolare io sono affezionata a Tomb Raider 2 Perché è il primo gioco per PC che ho finito Interamente Da sola Senza cheat Al massimo con delle guide Allora Sì, perché all'epoca Bene sì Esistevano le guide per i giochi Allora Esisteva un tasto per camminare di lato Una shift Una z Paggio su paggio Giù erano come Allora no Col 2 del tastello Oh mio Dio Col 5 si fa la capriola Col 2 si fa un passo indietro No Ok, no Ah, ok Ci sono Perfetto Alt 6 Quella Grande Lara Vai Ah, non rotoli giù Non scivoli giù No Diavolo Ho sbagliato il tasto Cavolo Cavolo E mo Corri, corri Lara Corri, Lara Corri Non da queste parti Spara, spara, spara Lara, Lara, Lara Corri, Lara Oddio Aspetta che nel panico Mi intrippo un po' troppo Con I tasti Perché mi viene naturale Saltare con lo spazio Invece con alto Maledizione Ok, arrampicati Arampicati Salva Uh I tigri Però non ho sentito l'odore del sangue Quindi Ok, ferma È più difficile di quanto possa sembrare E meno male che l'ho già giocato Mi ricordo quanto mi disperavo Non so se c'ho a finirlo Sto livello Maledettissimo Brutto da morire Sto livello Poi vi farò Vi regalerò un bonus clip Molti di voi sapranno già di cosa parlo Ok Allora io devo salire là Lassopra Il problema è che Non riesco a inquadrarmi Perché se io avessi Un'inquadratura Garbata Non avrei Di questi problemi Vero Lara? Opla Ce l'ho fatta Grande Salta Arrampicati Allora Oh cavolo Uh Allora Dove sono Non mi ricordo Più nulla Andiamoci un attimo attorno Dovrebbero esserci delle leve Quella Ho dei Blocchi da Spingere No Non è questo Non è qua Ah eccola lì Ok Pronta Lara GG Bel tuffo Complimenti Del tutto inutile Così Manneggia Allora Abbiamo un problema Che CTRL Alte Freccina su Con i computer nuovi Non fanno fare Il salto al contrario Come faceva una volta Lara Quello da arrampicata Ma mi cambiano La risoluzione E mi mettono Lo schermo A testa in giù Eccola Ok È un bel problema Se mi state dicendo Dove l'hai preso Ho comprato Su Steam Il pack Di tutti i Tomb Raider Ho pagato anche poco Tipo 10-15 euro Tutti i Tomb Raider Tra l'ultimo Ovviamente Sì E non Non ho giocato Agli ultimi Tomb Raider Dire la verità Perché Tipo Mi sono fermata Forse Al 5 No Allora Qua non riesco a saltare Non ce la si fa Sì Lara Non va qui Sali Vai in moto Mi sono fermata Al 5 E il quinto Tomb Raider L'ho giocato Tra l'altro Su Xbox Eh Su Playstation Su Playstation Allora ragazzi Non c'è altra via Devo perfarsi andare di qua Quindi mettiamoci L'impegno Oh Ecco qua Ce l'ho fatta Brava Lara Adesso ci giriamo E corriamo più veloci dal vento Perché io temo Sì vabbè Ciao Lara Temo che queste porte siano Uh Sono già fuori? Figo Ah Ehi Ehi tu che vuoi Ehi Corvaccio della malora Vattene Crepa 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 Sai che mori Viene le vici suoi Ehi Crepa pure te Crepa te c'è te Mori E' il diavolo Allora Sento che qualcosa Crollerà Prima che mi arriva Questa porta No Signore Ci vuole la chiave La chiave Che tu non hai Lara Perché tu sei venuta qui Senza chiave Era troppo facile Infatti Fare questo livello Senza chiave Sicuramente Devo andare Over there Look over there Che ciu 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 Charlie Che ciu ciu Ehi fermo Cos'era quella Assolutamente niente Allora Allora Io mi ricordo Che c'era Un qualche robo Per permettermi Di guardarmi attorno Ok 7 e 9 Detta sereno numerico Tipo Sì Più Eh vabbè Lara E adesso Cioè non mi dire Che devo fare il livello Che siamo Che stiamo messi Così male In questo Tomb Raider Ti prego Perché cioè Mi sparo Piuttosto che Rifare il livello No vediamo Se questa Plattaforma Possibile qualcosa No vedi Non You can't go anywhere Lara Quindi Devo rifare il livello Sì Ecco vedi Mi ricordo Una cosa Di questo gioco Che mi tormentava L'anima Era che dovevo Salvare ogni 3 secondi I bei tempi Dei salvataggi Atuomatici Non esistevano Ancora Quindi Cioè Era tipo La morte Celebrale Vedrà Come si va In nessuna parte No Però Ui Che adresa No Allora In seguito A numerose Riflessioni Io direi Che adesso Sarebbe bene Ammazzarsi Mi rifaccio il livello Da sola Appena concludo Qualcosa di positivo Mi chiamo Nel frattempo Oh mio dio Sono viva Sono viva Sono viva Oh ragazzi Sono viva Non devo rifare il livello da sola Posso farcela Ce la posso farcela Uh E' lì Vai giù Vai giù Vai Lara Mamma mia cilare La chiave Ragazzi Allora Non sono così cessa Yuhu 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 Vai Lara What a swim Swim like her Ok Il problema adesso È tornare sopra Oh cacchio Oh cacchio 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 What Oh my Uh No Cioè Non potete farmi questi scherzi Eh No No Tutto Ma non le tigri Alle spalle Guardala Uno zun Dove devo andare io Prima di tutto Ma raga ho bisogno di una telecamera Impostata bene No 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 Cioè non andiamo d'accordo Ho paura Ok Allora prima di tutto Neanche a dirlo Save game Poi saliamo E corri come Cristo vuole Corri 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 Lara Corri Lara Corri Lara Ok la dobbiamo ammazzare Girate Sparate Sparale Sparate Deve morire Prima lì di te Quanto Anna Lara Quanto si pro Ok Non essere pigliacca Se ne trovi un'altra Sparala subito Oh vi siete spaventati Mamma mia Ok Dove devo salire? 70 Là Probabilmente Ove già E Lara E dai Insomma È graziata Come Quasi quanto me Opla No 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 Opla O Gigi Brava L'aretta Adesso A qua Iai Dove porterà la porta? Lo scopriremo Nella prossima puntata Sousa 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 Sousa